Se lo vuoi cantare adesso? No, per me, suona meglio. Vai! Mi accorgi sono molto difficile da suonare, non c'è nemmeno un barretto e ragazze voi. Quando i cori viene molto meglio perché questa canzone mi canta sempre. Noi tre a l'oratorio, chissà non si combina con un romano. Mi offre una curva, che poi si springo con una mano. Un momento c'è posto per un altro guitarrista che potrebbe fare... E' facile! Conchetti! Un momento c'è posto per un altro guitarrista che potrebbe fare... E' facile che siamo al par del oratorio. Anche sueno degrazzato dentro. Ma che da capito, e andò la stagia solo a la marrea. Un momento c'è posto per un altro guitarrista che potrebbe fare... Non prendo la sua, e poi si springo con una mano. E andò la stagia senza tempo, io vedi che a chiusa senza tempo. Ness'è un rubato che ponte, che pende maia, liquirini, colorate, fricchetti e coca coline. E un po' di fiori e rosa per me. Non si accendere allora togliono. Si sa chi avrà, anche giovane in amaro. Verrà, romperà i manoni, invitiamolo a tornare al fumo bar. Anche ai giochi della tradizione, come il pallone, il pallone che la prossima volta che va a finire nel mio giardino, lo prendo e lo buco, d'accordo? E lì, dico, anche a doni che vai nei bagni delle baciane a foccarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.